Sul bacino del Mediterraneo adesso si insedierà, si sta insediando in queste ore un vortice depressionario che sarà bloccato nella sua naturale evoluzione verso Levante da un'alta pressione presente in area balcanica, per cui se ne starà lì alcuni giorni, ogni tanto arriverà un po' di alimentazione da parte di aria fredda che scende dall'Europa centrale, quindi per alcuni giorni il tempo sarà instabile, questo non significa che pioverà tutti i giorni, assolutamente no, ci saranno delle pause, però nel complesso avremo più nubi che sole e la possibilità di precipitazione sarà discretamente elevata per tutto l'arco della settimana, con temperature che adesso sono al di sotto della norma, poi tenderanno a risalire lentamente fino a riportarsi nei valori tipici della prima decada di settembre. Il segnale che si scorge dai modelli che si adottano per le previsioni stagionali sul bacino del Mediterraneo, le temperature per settembre dovrebbero essere nella norma o appena inferiori, questo significa che sarà relativamente probabile, perché qui quando si parla di previsioni lanciate su un mese serve una prudenza enorme, però potremmo avere una situazione nella quale il Mediterraneo potrebbe trovarsi con una certa frequenza in area depressa, cioè sede di circolazioni depressionarie, un po' come sta accadendo in questi giorni. Questa naturalmente non esclude fasi di bel tempo che sicuramente ci saranno, temperatura nella norma e da piovosità un pochino al di sopra della norma, con un segnale che sembra un po' più forte al centro-sud rispetto al nord, ma siccome poi la nostra regione è al confine con l'Italia centrale, potremmo risentirne anche noi.